Salve a tutti, oggi ci poniamo una domanda molto importante, non solo dal punto di vista religioso, ma anche dal punto di vista etico e sociale, ovvero come possiamo amare il nostro prossimo? La risposta sembra apparentemente semplice, ovvero ascoltandolo. Ascoltare il nostro prossimo cosa vuol dire? Per me vuol dire anteporre le sue necessità, i suoi bisogni, la sua voglia di essere ascoltato e di essere compreso, anche dedicando quindi una parte importante del nostro tempo, anteponendo quindi tutto questo a quelle che sono le nostre necessità, i nostri bisogni, le nostre priorità, il nostro individualismo e il nostro egoismo, soprattutto i nostri interessi egoistici. Quindi ascoltare l'altro non è altro che donare una parte di sé al prossimo e donare è molto più importante che ricevere. È Gesù che ce lo ricorda nel Vangelo dicendo che appunto dare è più importante che ricevere. Dare ovviamente gratuitamente, senza la pretesa di ricevere nulla in cambio. Ed è lo stesso San Francesco che ci ricorda che è dando che si riceve. Cosa vuol dire questo? Che noi grazie all'ascolto del prossimo possiamo riuscire ad arricchirci interiormente ricevendo un'abbondanza di spirito, di pace, di gioia, di tranquillità, di serenità che ci potrà portare anche ad imparare ad ascoltare noi stessi. Quindi ascoltare il prossimo porta, secondo me, ad un percorso di crescita individuale e personale che può permettere ad ognuno di noi di crescere come individuo e di migliorare come essere umano. Grazie a tutti. Giovanna Grazie a tutti.